E' stato fatto nuovo in Donizia, adesso sono tanti anni che è più. Questa è l'altra casa. Se vuoi fare prima all'esterno, qua all'esterno hai la gravenata. Ok. Ora questo è questo. Ok. Ok. Quindi questo è il privato? Sì, sì. Ok. Questo è solo il storaggio. Ok. Un'altra parte. Un'altra parte. Ok. Un'altra parte. Ok. Ok. Here we go up, marble stairs, here we have the living room, open fire place. And then we go up the stairs, here we find the master bedroom, okay. And this is my bedroom. Here we go. Here we go.